Riparte Digi e Lode, l'iniziativa era che premia le scuole della tua città. Come funziona? Semplice! Attiva i nostri servizi digitali a tua disposizione e regala punte alle scuole del tuo territorio. Le migliori verranno premiate con 2.500 euro ciascuna per progetti di digitalizzazione. Con Digi e Lode sosteniamo l'innovazione, lo sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente. Così contribuiamo tutti insieme al raggiungimento di 5 obiettivi dell'Agenda ONU per garantire il futuro del pianeta. Scopri come partecipare sul sito.